Si ferma a sette la striscia di vittoria consecutive della studentesca Vivere e Viaggia Relicata. I gialloblu di Coccettore Castorina incassano un'inattesa battuta d'arresto in casa dell'amatori Messina. 90-76 il punteggio maturato al pala Tracuzzi al termine di una gara costantemente in salita per Capitano Alfredo Falango e compagni. Il primo quarto del match lasciava presupporre che la studentesca potesse proseguire il suo magic moment. I primi dieci minuti si erano infatti conclusi sul 24-29. Grande il secondo quarto dei padroni di casa che trascinati da restuccia agguantano e poi superano i gialloblu. All'intervallo è 54-48 per l'amatori, distacco che non verrà colmato al rientro negli spogliatoi. Anche alla mezz'ora infatti Messina conduce di 6 punti, 72-66. L'ultimo quarto vede allargare la forbice e certifica il colpo a sorpresa dell'amatori che chiude sul 90-76. In casa Licatese non sono bastati i 28 punti di Crucitti tra le fila messinesi, 25 punti per restuccia studentesca che adesso avrà due gare consecutive da disputare tra le Muramiche contro Vigor, Santa Croce e Camerina e Gravina, due scontri contro due dirette concorrenti.